È dedicato alle intelligenze il Festival della Creatività 2019, centinaia anche quest'anno, gli studenti aretini che visitano Casa Bruschi per conoscere una parte della sua collezione dedicata appunto a questo tema. Siamo nel 1894 quando i fratelli Lumiere inventano questo straordinario mezzo che è il proiettore cinematografico. Qui siamo nella stala della biblioteca ma la visita degli studenti parte dal piano terra di Casa Bruschi, oggi amministrata da Ubi Banca. Gli studenti sono portati per mano nelle stanze dove l'illustre personaggio aretino a cui dobbiamo l'invenzione della fiera antiquaria custodiva il suo patrimonio. Oggetti, cimeli, ricordi, ognuno racconta la sua storia. Dieci, quelli selezionati dagli operatori museali per rappresentare l'intelligenza umana che ha permesso importanti scoperte ma anche l'invenzione di oggetti curiosi. La zangola, la bottiglia scolmavino piuttosto che lo scaldino da letto. Avviciniamo i ragazzi anche ad altri oggetti che sono legati invece a scoperte scientifiche veramente importanti come il canocchiale telescopico piuttosto che alcuni oggetti legati all'invenzione dell'elettricità. Il festival, promosso dall'Associazione Bancaria Italiana, vuole anche promuovere una visita consapevole dei musei dove lo smartphone diventa uno strumento e non una distrazione. E così i ragazzi fotografano il loro oggetto preferito e creano un post sui social mirato alle loro sensazioni. Canocchiale telescopico. La conoscenza è presente in ognuno di noi e può essere infinita. Basta guardare oltre. Hashtag guarda e ricorda.